Su Netflix sta per arrivare una nuova serie drammarica dai toni romantici Si tratta di partner Trek una drome di che racconta le avventure professionali e personali di un'americana con origini corenna e alle prese con un'estrema ambizione e la voglia di dedicare del tempo anche alla vita privata Riuscirà l'amore a diventare parte della vita di Ingrid O, questa ragazza, finirà con l'essere travolta dalla sua voglia di arrivare sempre più in alto professionalmente? Lo scopriremo presto, intanto, diamo un'occhiata a quello che ci aspetta con questa nuova serie romantica di Netflix Qui il trailer di partner Trek La trama di partner Trek Ingrid Jung, un'americana di origini coreana e prima avvocata in famiglia, affronta le difficoltà che derivano dall'essere una delle migliori nel prestigioso, ma tradizionalista, studio legale Parsons Valentina Con il sostegno degli amici, Ingrid fa il possibile per superare le sfide lavorative e diventare partner Ma la sua passione e la sua ambizione lasceranno spazio all'amore? Quando esce partner Trek su Netflix Partner Trek farà il suo debutto su Netflix il prossimo 26 agosto con 10 nuovi episodi in tutti i paesi in cui è attivo il servizio E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Grazie a tutti